le nostre campagne sono orfane ormai da alcuni anni della barbabietola da zucchero venuta meno con la riforma dell'ocm e la chiusura della maggior parte degli zuccherifici che sorgevano in emilia romagna ancora non c'è una cultura che per caratteristiche agronomiche produttività ereditività e guagli la barbabietola ma si stanno sperimentando alcune produzioni che potrebbero essere interessanti per il futuro dell'agricoltura della nostra regione e non solo stiamo parlando di sorgo e canna comune in latino arundo donax due colture lignocellulosi che da biomassa destinate quindi a diventare combustibile per la produzione di energia e calore i loro pro e contro siamo andati a chiederli a enrico ceotto che a bologna lavora per il centro di ricerca per le colture industriali del consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura da circa dieci anni il centro sta sperimentando queste colture in un'azienda di anzola dell'emilia qui il sorgo viene seminato a fine aprile inizio maggio e raccolto con i primi freddi sentiamo quali risultati sta dando punto di forza è la notevole resistenza alla siccità e la capacità di valorizzare risorse idriche che si trovano nel terreno a profondità non accessibili ad altre colture mentre al sud è necessario in ogni caso irrigarla nelle nostre condizioni ambientali della regione emilia romagna in terreni di pianura è una coltura che se seminata nel momento giusto può compiere l'intero ciclo senza l'ausilio dell'irrigazione stiamo parlando di terreni che hanno una falda sotterranea attorno ai due metri d'estate terreni profondi alluvionali quindi condizioni favorevoli in media riesce a produrre qualcosa come 27 tonnellate per ettaro di sostanza secca che è una produzione di tutto di tutto rispetto altra cosa che abbiamo visto che è una coltura molto frugale se il precedente culturale frumento e quindi ma un periodo di riposo dalla coltivazione abbastanza lungo noi diamo molto spesso 100 150 unità di azoto ma abbiamo visto che anche senza quella fertilizzazione la coltura produce egregiamente in una fase un po delicata è quella della semina perché sicuramente deve essere diserbato e l'altro elemento un po critico questa coltura che avendo un seme piuttosto piccolo deve essere seminato non a elevata profondità e qui ci può essere qualche problema nella fase iniziale della coltura perché se ci sono terreni limosi che formano crosta può avere delle difficoltà di emergenza e allo stesso modo se per qualche ragione c'è un andamento stagionale molto siccitoso ci possono essere delle difficoltà di emergenza una volta che il sorgo da biomassa parte con il proprio ciclo è chiaro che quel punto sovrasta qualunque infestante diventa una pianta molto molto resistente insomma tutte le avversità servono delle macchine particolari per la coltivazione del sorgo non servono macchine particolari seminatrici cose per la raccolta può andar bene una falciatrincia caricatrice insomma quali sono i costi per avviare un impianto di sorgo sono i costi di impianto di una normale coltura annuale che si riproduce per seme insomma esistono sul territorio delle strutture per il ritiro del prodotto esistono anche se non sono molte quindi il sorgo si presenta come una coltura interessante dal punto di vista agronomico e produttivo ma ancora non c'è una rete commerciale che riesca a valorizzarla e poi c'è la canna comune che tutti gli agricoltori conoscono come infestante lungo i canali ma voi avete visto che si può anche coltivare in che modo è una pianta molto resistente alle avversità praticamente non non subisce attacchi particolari da parassiti si adatta bene a qualunque tipo di terreno quantunque abbiamo visto che si adatta meglio ai terreni sciolti o di medio impasto invece nei terreni molto argillosi ma ha qualche problemino però diciamo che normalmente è una pianta che cresce dappertutto il grosso vantaggio è la sua elevatissima produttività riesce senza irrigazione a fornire delle produzioni di biomassa elevatissime essendo una pianta perenne quindi che non necessita di lavorazioni annuali del terreno tende a incrementare come tutte le colture a biomassa del contenuto di sostanza organica del terreno quindi ha una funzione di deposito di carbonio la canna comune meglio di qualunque altra specie riesce a controllare il contenuto di nitrati nel terreno presenti in autunno e quindi potenzialmente li sciviabili nel corso dell'inverno anche quando riceve delle quantità molto elevate di reflui zootecnici quindi è una coltura che può essere definita uno spazzino di nitrati questo è un altro beneficio ambientale che ovviamente all'agricoltore disposto a coltivarla andrebbe riconosciuto economicamente l'altra informazione che la biomassa è opportuno che venga raccolta una volta all'anno normalmente nel corso dell'inverno nel momento in cui la pianta è in fase riposo vegetativo è sicuramente quello il momento migliore per per raccogliere nel caso della canna servono delle macchine particolari per la raccolta e so che sono stati ammessi appunto dei prototipi non c'è una notevole diffusione di macchine che sono in grado di raccoglierla però problema tecnicamente da quello che so è stato risolto quanto dura un impianto e quando entra in produzione perché sappiamo che questo è uno degli svantaggi di questa coltura si può presumere che un impianto di canna possa durare intorno ai 20 30 anni nel primo anno dobbiamo aspettarci una produzione piuttosto limitata diciamo che a partire dal secondo terzo anno la produzione biomassa comincia a diventare molto elevata. Un altro problema che avete riscontrato su questa coltura è il costo dell'impianto perché qui da noi la pianta non produce semi e va propagata per via vegetativa che non è tecnicamente complesso ma è molto dispendioso di che cifre si parla? Si parla normalmente di 4.000-5.000 euro per ettaro che non sarebbero nemmeno tanti se si considera la lunga durata dell'impianto della coltura però bisogna considerare che per un agricoltore andarsi ad impegnare per un lungo periodo con una coltura che al momento ancora non ha delle prospettive sicure ecco servirebbe qualcuno che realizzasse un impianto e potesse garantire all'agricoltore un contratto di ritiro della biomassa prodotta per 10-20 anni allora è chiaro che a questo punto l'agricoltore potrebbe essere ben disposto ma al momento diciamo che è una coltura che noi stiamo studiando a livello sperimentale che a livello sperimentale dà sicuramente delle ottime performance ecco. Al momento quindi a fronte di un interesse agronomico e produttivo della canna comune manca un sistema che la sostenga economicamente ma anche che la regolamenti perché altrimenti si crea un altro problema ancora. Il problema è che tutte le volte che decidiamo di coltivare delle colture da energia sottraiamo terreni fertili disponibili per la produzione di colture agroalimentari quindi la sfida della ricerca e la sfida anche della politica agricola è quella di trovare un giusto compromesso tra una buona distribuzione di superficie dedicata alle colture delle filiere agroalimentari e una certa quantità di territorio destinata a queste colture da energia che sicuramente fa comodo coltivare sia per la quantità di energia che possono produrre che quindi può alleviare la nostra dipendenza dell'energia fossile, alleviare e non risolvere del tutto, sia per i benefici di tipo ambientale che queste colture possono assicurare. Grazie